In quell'attimo il collega con gli occhi, perché naturalmente nel centro città si doveva stare un pochettino accorti perché là ci si conosceva tutti, non si potevano usare radio perché insomma 24 giugno temperature alte, magliettine, con gli occhi ci siamo capiti e subito ci siamo messi nelle auto che abbiamo parcheggiato vicino e il collega aveva dato l'intuizione, probabilmente lui. Quell'attimo di 26 anni fa ricordato da questo che all'epoca era un semplice agente della DIA fu il momento in cui a Palermo venne riconosciuto e quindi catturato Leoluca Bagarella, il latitante braccio armato e stragista dei Corleonesi furono intracciati in Corso Tucori e seguiti a bordo della sua Y10 Viola. Pistoli in pugno venne bloccato in via la regione siciliana. Ritengo che Bagarella non abbia intuito subito di essere braccato, l'ha intuito forse nel momento in cui è stato bloccato nei pressivi del regio siciliano. Non ha detto assolutamente nulla, noi l'abbiamo bloccato, l'abbiamo messo su una macchina e l'abbiamo portato in ufficio. Dopo il trasferimento nell'allora sede della DIA a Palermo, Bagarella venne trasferito nel carcere della Sinara. Il nostro pensiero è andato subito a tutti i familiari, oltre ai familiari dei colleghi che nel corso del tempo avevano perso la vita anche per colpa sua, ma noi abbiamo avuto il pensiero al popolo intero, allo Stato intero perché è stato veramente un riscatto per il Paese intero perché quello che avevano combinato, lui era il capo dell'ala stragista, insomma quello che avevano fatto loro ha fatto piangere veramente tutto il Paese e di questo noi siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, ma non per noi ma per la comunità intera, ripeto. Grazie, grazie mille. Prego. Grazie a tutti.